Montereggi Olio Toscano. Fabrizio, la tua prima esperienza qui al Fancy Food? Un bilancio di questi tre giorni? Sì, la prima esperienza ad una manifestazione internazionale. Ringrazio il Ministero che mi ha dato questa opportunità, l'ISMEA e tutta l'organizzazione. È stata una manifestazione molto interessante, soprattutto dal punto di vista degli incontri sia con i buyers che con i clienti che possono potenzialmente essere dei nostri acquirenti dei nostri prodotti toscani, del mio olio, che è un olio biologico, molto pregiato e della provincia di Firenze. Sono soddisfatto perché ho potuto mostrare e far sentire la differenza del nostro prodotto rispetto a quello di altre nazionalità. L'olio toscano viene molto apprezzato, è un olio di grande qualità e per le persone sente veramente molto con facilità la differenza tra un prodotto come il nostro, forte, robusto, piuttosto che magari un olio di livello normale. Speriamo che questa manifestazione mi porti ad avere uno sbocco negli Stati Uniti, vedremo nel prossimo futuro i contatti che abbiamo avuto, cosa vi porteranno. Comunque io ringrazio principalmente il Ministero e tutta l'organizzazione che ci ha portato fin qua. Grazie. Grazie.